Venerdì 14 dicembre è stata inaugurata in presenza del Vescovo Monsignor Giancarlo Vecerica un'opera realizzata dai dipendenti di Elica e rappresentante la Natività. Il presepe realizzato in metallo è il frutto di un mix di creatività e tecnologia. La progettazione della Natività è stata fatta in maniera artigianale, come qualsiasi opera prodotta dallo studio di un artista. L'opera sarà esposta alla mostra dei presepi presso il reatorio del Gonfalone a Fabriano per l'intero periodo delle festività natalizie. Parliamo con gli ideatori del presepe, com'è nata l'idea appunto? In realtà questa è un'iniziativa che portiamo avanti da alcuni anni, nel senso che facciamo sempre un'opera per Natale. Abbiamo fatto fino adesso opere contemporanee che non riguardavano direttamente il presepio, questo è il primo anno che abbiamo pensato di fare un vero e proprio presepe. L'idea appunto, primo disegno, come mai questa scelta molto molto moderna, poco tradizionale appunto? Nel realtà ci siamo ispirati, cioè sono rimasto colpito a luglio quando sono andato all'URD con l'Unitalsi, con mia moglie. Ci sono due statue nella Basilica di San Pio X che rappresentano l'annunciazione. Erano molto simili all'opera che abbiamo fatto noi, quindi sono rimasto molto colpito e ho proposto a Fabrizio l'idea di utilizzare le forme e lo stile che ho fotografato. Poi il merito di Fabrizio è stato quello di riadattare lo stile al presepe, quindi è stato lui la mano che ha disegnato Maria Giuseppe e poi io mi sono occupato di tutta la realizzazione meccanica, quindi il taglio laser, la piegatura, l'assemblaggio eccetera. Bisogna dire innanzitutto che sono stati impegnati soprattutto i macchinari di produzione, perché questa è un'opera che qui la vediamo come opera unica, ma è entrata dentro il processo industriale elica, per cui come ne abbiamo fatta una ne potremmo fare 100.000. Logicamente ci fermiamo a una sola, quindi hanno lavorato prima di tutto le macchine, il taglio laser, le piegatrici eccetera. Poi è subentrata la mano dell'uomo che non può essere sostituita da nessuna macchina, che ha fatto l'assemblamento di tutti i vari pezzi tagliati e questo l'hanno fatto proprio gli operai che lavorano nella produzione. È un'iniziativa ottima, perché io ho fatto un messaggio intitolato Natale dentro, Dio è entrato dentro la realtà per migliorarla e oggi siamo chiamati a migliorare una situazione veramente quasi disastrosa. Allora creare questo segno della natività, il presepio, con il materiale di questa azienda e con tutto il personale che si ritrova a questa inaugurazione è un segno veramente di speranza, perché non basta la scienza, non basta la tecnica, c'è bisogno anche della grazia, c'è bisogno del mistero di Dio e porre un segno del mistero di Dio dentro l'azienda oggi è veramente un dono per tutta l'umanità.